Buonasera, buonasera e bentrovati in questa edizione del TG6. Ovviamente in primo piano le vicende dell'hotel Rigobiano si continua a scavare senza sosta all'opera i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile per cercare di individuare altre vite al di sotto delle macerie, altri superstiti. Al momento quello che è il bilancio di questa tragedia è quello di 11 sopravvissuti, 5 vittime estratte dalle macerie e 23 sono i dispersi. I vigili del fuoco riferiscono di avere altri segnali da sotto la neve e le macerie e stanno verificando. Potrebbero essere persone vive ma anche le strutture dell'albergo che si muovono sotto il peso della neve. Al momento come detto 11 sopravvissuti ai due superstiti recuperati all'alba di giovedì, il cuoco Giampiero Parete e il manutentore dell'hotel Fabio Salsetta. Si aggiungono la moglie di Parete, Adriana Vranceanu e il figlio Gianfilippo salvati ieri mattina. E poi i tre bimbi recuperati nel pomeriggio di ieri, l'altra figlia di Parete, Ludovica, poi Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Nella notte sono state estratte vive altre 4 persone, Giampaolo Matrone, lievemente ferito a un braccio, Vincenzo Forti, Francesca Bronzi e Giorgia Galassi. Ieri sera la prefettura di Pescara aveva fornito un elenco di 5 nomi indicandoli come quelli che si trovavano sotto le macerie e che erano stati individuati e dovevano essere estratti vivi. Oltre a Matrone, Bronzi, Forti e Galassi c'era anche Stefano Feniello, del quale però al momento non ci sono notizie. Il bilancio ufficiale delle vittime, come detto, è salito purtroppo a 5. Ai primi due corpi recuperati, quello del capo cameriere dell'hotella Alessandro Giancaterino e del cameriere Gabriele D'Angelo, se ne sono aggiunti altri tre. Nel pomeriggio è stata riconosciuta una terza vittima, si tratta di Nadia Acconciamessa, la madre del piccolo Edoardo Di Carlo, che come detto è in salvo ed è anche la moglie di Sebastiano Di Carlo che è invece uno dei dispersi sotto le macerie dell'hotel. Gli altri due corpi, un uomo e una donna, al momento sono ancora da identificare e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'appello mancano al momento 23 persone risultanti dalla lista ufficiale degli ospiti della struttura e da altre segnalazioni ricevute. Poi ancora il PM di Pescara, Andrea Papalia, conferito al medico legale dell'ospedale di Pescara, Ildo Polidoro, l'incarico di effettuare le autopsie delle vittime di Rigopiano. Come già riferito ieri, l'intenzione sarebbe quella di raggruppare le ispezioni in una unica tornata, mettendo insieme tutti i corpi da esaminare, a parte il primo corpo estratto, che era sommerso dalla neve all'interno dell'hotel, ma travolto dalla valanga. Finora i primi cadaveri rintracciati presentano quasi tutti i traumi da compressione o schiacciamento, secondo i soccorritori simili a quelli di un terremoto. L'autopsia dovrà anche chiarire se tra le cause di morte ci sia anche l'assideramento. L'assideramento provoca una congestione di sangue verso gli organi interni, una vasocostrizione negli arti, che è una semplice ricognizione esterna, non è da sola in grado di stabilire. Andiamo avanti, vi proponiamo ora il bollettino dei superstiti emanato presso l'ospedale di Pescara. Vi diciamo che tutti i superstiti che sono in ospedale non saranno dimessi prima di lunedì. Stanno comunque bene in condizioni discrete. Il pasticcere di Monte Rotondo, Gianpaolo Mattrone, che è stato sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico, finito intorno alle ore 13. intervento chirurgico al braccio. Come detto, è ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni discrete. Probabilmente il suo decorso, la sua degenza all'interno dell'ospedale sarà un po' più lungo rispetto agli altri. Ma nel complesso stanno tutti bene, tutte le persone che si trovano all'ospedale di Pescara. Le condizioni comunque sono buone, al di là del braccio sono buone. I bini stanno bene, tutti quanti stanno bene, c'è solo questa persona che ha un problema al braccio dovuto alla compressione che ha ricevuto, per cui sta facendo un intervento che non ha nessuna frattura, quindi un intervento di decompressione sull'arto superiore destro. C'è qualcuno che verrà dimesso? Questo ve lo dire, ad oggi no, in questo momento non c'è ancora nessuna dimissione, è stato già dimesso il papà dei bambini, il signor... Che però è qui con la famiglia? Sì, che è qui con la famiglia. Adesso, in questo momento, non c'è arrivata fino adesso nessuna comunicazione di altri arrivi. Hanno avuto accanto un familiare tutti i pazienti qui presenti. E in riferimento alla vignetta pubblicata dal periodico francese Charlie Hebdo, in cui viene rappresentata la tragedia dell'hotel Rigopiano, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, rende noto di aver dato mandato affinché venga predisposta una querela nei confronti della rivista e degli autori della rappresentazione. Quanto deciso in linea con la decisione dei mesi scorsi presa a seguito della tragedia di Amatrice. Abbiamo riscontrato vicinanza e solidarietà tra noi e Amatrice, due comunità colpite da un oltraggio che nulla ha a che fare con la satira, dichiara il sindaco Lacchetta. La querela sarà presentata nei prossimi giorni dallo stesso legale incaricato dall'amministrazione comunale di Amatrice. L'avvocato Mario Cicchetti è assistito dall'avvocato Irma Conti. Una sequenza di immagini e video amatoriali testimoniano la situazione di disagio all'hotel Rigopiano per l'accumularsi della neve sulle strade e sulla struttura. A girarle una coppia che ha fortunatamente lasciato il resort martedì pomeriggio, un giorno prima della Slavina che ha intrappolato tutti gli ospiti all'interno della struttura. Il servizio di Francesca Romana Testi. È notte, nevica incessantemente. È domenica 15 gennaio. Alla guida del fuoristrada c'è Roberto Del Rosso, il proprietario dell'hotel Rigopiano, che sta portando al resort una coppia di ospiti rimasti in panne con la propria autovettura al bivio di Farindola, a 10 km dalla struttura. L'auto viene lasciata lì e Del Rosso porta gli ospiti all'hotel, provvedendo poi il giorno dopo a spostarla e metterla al sicuro. Sono le 22. La mattina seguente da una camera lo scenario è questo. Sulla sinistra è il fuoristrada del proprietario, coperto di neve. Sulla destra si intravede il tetto della cupola della spa. La sera di lunedì la neve è aumentata e si intravede appena il tavolo e le sedie situate a poca distanza. Martedì mattina invece non si distingue più nulla. Continua a nevicare e anche l'area della piscina è quasi coperta completamente dalla neve. Si vedono le due mascotte, i pastori abruzzesi in nuvola e lupo ritrovati, vivi a qualche chilometro di distanza dal resort. È l'ultimo filmato della coppia prima di lasciare la struttura e tornare a casa dopo l'arrivo degli spazzaneve che hanno liberato la strada per le auto degli ospiti in partenza. Dalle immagini rese pubbliche dai vigili del fuoco dopo la slavina che mercoledì 18 alle 17.30 ha travolto l'intera struttura, intrappolando tutte le persone al suo interno, si intravede solo l'area della piscina situata davanti all'hotel. La forza dell'urto ha travolto la struttura principale, quella con le camere, il ristorante, la cucina dove sarebbe stato ritrovato il primo gruppo di persone, la sala biliardo dove si trovavano i bambini, la hall e il bar. Si vedono solo i vetri e la coltre di neve che la circonda. Secondo la testimonianza della coppia, l'uomo già martedì avrebbe richiesto l'intervento della provincia per l'arrivo degli spazzaneve, provvedendo intanto a ripulire l'area esterna dell'hotel. Sua abitudine è quella di trasportare con mezzi propri gli ospiti in difficoltà per via delle condizioni stradali, ma questa volta aveva provato anche ad utilizzare un mezzo per pulire la strada, ricevendo poi l'ordine di non procedere in attesa dell'arrivo degli spazzaneve. La coppia ha poi raccontato di come i lavori di pulitura dell'esterno della struttura da parte del personale fossero andati avanti anche tutta la notte. Resta per ora questo video dove si sente del rosso parlare con l'ospite delle difficoltà di transito delle auto di città e dell'utilità del suo fuoristrada per quelle strade. Abbiamo parlato di questa coppia che è scampata alla tragedia perché ha lasciato il resort un giorno prima della Slavina. Allora ascoltiamo proprio la testimonianza della donna. Vediamo queste immagini e questa intervista. Si cerca di ricostruire quello che è successo all'hotel Rigopiano e soprattutto si è parlato molto di chi voleva lasciare il posto proprio per la tanta neve. Poi sono arrivate le scosse di terremoto. Nel suo caso martedì è riuscita a lasciare l'hotel Rigopiano. C'erano le persone che tutt'oggi sono ancora scomparse. In questo caso cosa si ricorda? La situazione si è parlato anche dell'aiuto che il proprietario stava cercando di dare a tutti gli ospiti? Sì, infatti noi fortunatamente siamo riusciti ad andare via con un po' di difficoltà perché noi abbiamo parlato con il proprietario al mattino e gli aiuti tardavano ad arrivare. Quindi abbiamo atteso fino al pomeriggio, verso le 16, 16.30, sono arrivati due spazzaneve e siamo riusciti ad andare via. Lei parla di martedì. In realtà poi delle persone che erano lì presenti e che sono ancora disperse, cosa ricorda? Noi siamo arrivati domenica sera e abbiamo avuto già difficoltà ad arrivare sulla struttura tant'è vero che il proprietario è venuto personalmente ad aiutarci a parcheggiare l'auto, la nostra auto che era bloccata. E poi siamo arrivati sulla struttura, c'era tanta neve. Il lunedì lo spazzaneve è arrivato verso le 12 e tant'è vero che hanno anticipato per chi volesse andare via di tenersi pronti perché sarebbe arrivato e si sarebbero dovuti accodare lo spazzaneve. E poi la sera con gli altri ospiti, il lunedì, si scherzava anche un po' sul fatto che insomma si erano rimasti bloccati ed era quasi tra virgolette un piacere, eravamo nella piscina all'aperto con la neve, quindi non avremmo mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto. E quindi c'erano, vabbè, ricordo la coppia di Atri che sarebbe dovuta andare via lo stesso giorno in cui siamo andati via noi, il martedì. Però loro dicevano tanto ad Atri, non c'è elettricità, è difficile anche raggiungere la località, quindi rimaniamo. Per quanto riguarda la coppia di parrucchieri, stavamo scherzando sempre in piscina e loro erano tanto preoccupati per il figlio il giorno precedente, però poi tutto a posto e quindi hanno detto, vabbè, noi rimaniamo perché non abbiamo particolari impegni. Tanto è vero che loro sono rimasti, noi sinceramente dopo due giorni eravamo anche un po' stanchi di stare lì, comunque bloccati perché non si poteva andare neanche a cena fuori, e quindi abbiamo deciso di partire noi al contrario, altrimenti saremmo rimasti. Si è parlato molto dell'arrivo dello spazzaneve che poi è stato ritardato dalle 15 alle 19, alle 17 e 30 la Slavina. In questo caso, guardando anche quello che era il lavoro del proprietario, che si trovava spesso, come raccontato, a chiedere e soprattutto ascoltare i clienti, qual era il suo comportamento? Era preoccupato? Lui sì, era un po' preoccupato, questo per quanto riguarda il martedì, perché lui cercava di contattare anche la provincia, perché lui avrebbe dovuto anche fare qualcosa con il piccolo mezzo che aveva, però non poteva perché non era di sua competenza, infatti non gli facevano aprire neanche la strada lì vicino perché gli avevano riferito che non era di sua competenza, tant'è vero che proprio noi prima di partire abbiamo detto state un attimo tranquilli, stanno arrivando, però tardano e sto parlando con la provincia per chiedere altri aiuti. Era un po' preoccupato, però poi si è risolto tutto bene per quanto riguarda martedì. Lui comunque è stato veramente splendido tutto il tempo, anche la notte, durante la notte c'erano i ragazzi che lavoravano nella struttura, che cercavano di liberare tutto l'intorno, solo che ha nevicato di continuo e non ci si poteva aspettare sicuramente una slavina che arrivasse da su. Si è parlato di una conta che ancora non è confermata di persone, perché prima si diceva 30, poi 35, quante persone ha visto lei all'interno dell'albergo? Ma io ricordo bene queste due coppie di cui ho parlato, poi ricordo il cameriere benissimo di cui hanno ritrovato il corpo, poi ricordo il ragazzo alla reception, altre due coppie, ricordo, bambini non ne ho visti, bimbi proprio, forse perché noi stavamo andando via, magari non ci è capitato poi la sera precedente, siamo andati a cena tardi, quindi magari loro... Ripetendo le immagini interne che sono riusciti a fare gli uomini della protezione civile e le aree che si sono viste, a cosa corrispondono? Allora, le prime immagini che ho visto sono quelle appunto della spa, dove era la piscina prima all'esterno che era coperta, la piscina all'esterno completamente coperta di neve, poi all'interno invece era libero, poi ho visto le scale che portavano al piano di sopra o meglio all'ascensore della spa, poi la cosa che mi ha fatto più impressione e che mi ha fatto davvero spavento sono state le finestrelle in alto sul soffitto della spa che dal basso guardavano l'altro e dall'alto guardavano il basso e quella parte lì corrispondeva proprio alla parte diciamo un po' più a valle vicino la sala pranzo, vicino anche tra virgolette la hall lì, sempre da quelle parti e mi sono spaventata perché ho visto un cumulo di neve e di macere, lì davvero mi sono spaventata, ho ottenuto il peggio fortunatamente non per tutti. E altre testimonianze, quella ad esempio di Giampaolo Matrone, il pasticcere 33enne di Monterotondo che come detto è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio in mattinata, mano nella mano con la moglie Valentina Ciccioni fino a quando i vigili del fuoco lo hanno salvato, lo ha raccontato proprio Giampaolo Matrone, le stringevo la mano e le parlavo per tenerla sveglia perché volevo che rimanesse sempre vigile, la chiamavo poi a un certo punto non l'ho sentita più e ho capito che mi stava lasciando. Vicino a lui Matrone ha raccontato di un'altra donna che non dava segnali di vita. E poi ancora la testimonianza della giovane 25enne di Montesilvano, Francesca Bronzi, ero al buio in uno spazio piccolissimo senza acqua e senza cibo, molte persone erano nella sala garden, alcuni tra cui me e Stefano nella sala camino e i bambini erano nella sala biliardo. Così Francesca Bronzi avrebbe descritto ai familiari le terribili ore trascorse dopo la valanga fino all'arrivo dei soccorritori. Francesca chiede continuamente del suo fidanzato Stefano Feniello, riferisce il papà della ragazza Gaetano Bronzi. I familiari della giovane oltre a confermare che lei sta bene fisicamente criticano la mancanza di organizzazione e l'assenza di informazioni ufficiali. I due ragazzi erano andati a Rigopiano per festeggiare il compleanno di lui, regalo offerto dalla fidanzata. Ricordiamo che il fidanzato di Francesca Bronzi, ovvero Stefano Feniello, era nella lista delle persone che ieri sera sarebbero, dovevano essere estratte, tra le persone identificate come vive che dovevano essere estratte, una lista di 5 persone, ma in effetti di questa lista solo 4 sono state estratte e invece di Stefano Feniello al momento non c'è traccia. Avanti ancora il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, che ha seguito con apprezzione le notizie riguardanti l'opera di soccorso a Rigopiano, esprime tutta la sua gioia per la notizia che i suoi concittadini Giorgia Galassi e Vincenzo Forti sono appunto vivi. A Giorgia e Vincenzo giungano l'affettuoso abbraccio mio e dell'intera comunità di Giulianova. siamo stati in trepida attesa tutti, davanti al televisore, ai mezzi di informazione, attraverso Radio Giulianova che ha tenuto informati tutti minuto per minuto, però non abbiamo mai perso la speranza perché sapevamo che Giorgia e Vincenzo erano lì sotto ma erano vivi e appena siete stati estratti, noi siamo stati tutti con voi e siamo con voi, vi aspettiamo per riabbracciarvi tutti quanti insieme in questa comunità. In questo momento oltre che la gioia per voi, per la vostra giovane vita che continuerà e che ci vede vicino a voi, il pensiero va ai soccorritori, a quei soccorritori che con grande professionalità non hanno mai sperso la speranza di tirare fuori voi e tutti quelli che fino a questo momento hanno rivisto la luce. La speranza è che ci siano altre vite, ancora lì sotto la slavina e che possano tornare alla normalità e un pensiero va a quelle persone che invece non ce l'hanno fatta. Un abbraccio forte a tutti. Siamo stremati la tragedia di Ricopiano che non è nel nostro comune, ci spinge a lavorare duramente perché siamo sul fronte dei soccorsi e non ci tireremo mai indietro ma siamo già un comune in predissesto e ora stiamo pagando tutto noi, le spese dei volontari, la benzina, i pasti, tutto noi, non ce la facciamo più. Il grido di dolore dell'assessore al bilancio del comune di Penne, Gilberto Petrucci, che con l'amministrazione ha attivato un conto corrente bancario per la raccolta di fondi finalizzata all'emergenza neve. La Giunta Comunale ha deliberato con atto numero 1 del 17 gennaio scorso lo stato di emergenza e ha attivato il conto corrente bancario. Prima di cambiare pagina vi riportiamo anche le dichiarazioni rilasciate poco fa dal Vice Ministro Bubico che si trova in queste ore a Penne. Le squadre di soccorso a Rigopiano continuano a cercare con grande forza ogni mezzo e determinazione le persone che sono là sotto. Lo ha detto appunto il Vice Ministro dell'Interno, Filippo Bubico, che nel pomeriggio ha incontrato nuovamente i familiari delle persone raggiunte dalla Slavina. Alla domanda dei giornalisti se ci siano ancora speranze di trovare persone vive. Il Vice Ministro ha sottolineato che continuiamo a coltivare questa speranza così come abbiamo fatto quando c'era chi pensava che non ci fosse alcuna di speranza. E alle polemiche sui soccorsi giunti in ritardo Bubico ribatte. Noi rispondiamo che è importante continuare a lavorare. Poi ancora 23 sfollati del paese di Ortolano, una frazione del comune di Campo Tosto nell'Aquilano, sono stati alloggiati nel capoluogo all'Aquila. Tanta la rabbia per i ritardi nei soccorsi. Il servizio di Germana Dorazio. Siamo stati evacuati dopo tante ore di sofferenza, circa tre giorni, sotto quattro metri di neve. Non riuscivamo a uscire di casa, una strettissima strada che mio marito batteva ogni cinque minuti perché con la bufera si ricopriva. E' arrivato il terremoto, è stato fortissimo. In casa mi è caduto tutto, una casa antisismica di recente costruzione. Non ha riportato danni, fortunatamente. Non potevamo uscire perché fuori il tempo era quello che era, preferivamo rimanere in casa. In casa come vi siete riparati, quindi, dato che non potevate uscire? O cosa hanno fatto? A un pian terreno, al salone, ogni volta che c'era la scossa ci avvicinavamo alla porta, ma non era il caso di uscire, insomma. Finiva la scossa e ci calmavamo un attimo. E' drammatico il racconto di un incubo appena concluso da parte di Monica Cillitti, una delle abitanti di Ortolano, franzione di Campo Tosto, portate in salvo in elicottero dalla Guardia di Finanza all'Aquila. Nel capoluogo sono così ospitate 23 persone, in pratica tutto il paesino di Ortolano. Tra loro anche il signor Giocondo De Dominicis, il fratello di Enrico, l'uomo di 73 anni, operaio Enel in pensione, travolto da una slavina provocata da una delle potenti scosse di terremoto mercoledì mattina, mentre spalava la neve fuori dall'uscio di casa. I paesani si stringono intorno a Giocondo, lo rincuorano e lo abbracciano. E tra gli sfollati circola anche una rabbia a stento trattenuta, a causa anche del ritardo dei soccorsi che hanno raggiunto Ortolano. Il nostro paesano è rimasto purtroppo sotto una slavina, non è venuto nessuno a scavare, ha scavato solo mio marito per sei ore, tornava a casa, scaldava le mani e riusciva di nuovo. Si è stato detto che sono arrivati forestali, carabinieri, vigili del fuoco, chiunque a scavare, non è vero, non è arrivato nessuno. Potevano arrivare gli sci alpinisti, ho sentito persone che dicevano li stiamo mandando, non è arrivato nessuno. A Ortolano, spiega un ragazzo, è rimasta bloccata in casa anche una bambina di un mese. E' per fortuna che l'energia elettrica, almeno quella, non è andata via. In ogni casa c'erano legna e scorte alimentari sufficienti per resistere tre giorni. L'appennino abruzzese ha rischio forte per caduta di valanghe. Lo comunicano la protezione civile regionale del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare. L'ondata di maltempo che ha colpito l'Abruzzo ha comportato infatti l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve precedentemente compattata e già trasformata. Questa condizione del manto nevoso provoca un aumento dell'instabilità di pendii montani caratterizzati da accumuli di neve con diversa consistenza, umidità e temperatura. I rilevamenti del servizio Meteomonte del Corpo Forestale della Regione Abruzzo hanno infatti evidenziato un grado di pericolo 4 su 5 e quindi forte per caduta valanghe su tutti i settori osservati. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Lama dei Peligni in provincia di Chieti in collaborazione con quelli di caso di Torricella, Peligna, Palena e dei carabinieri forestali della stazione Parco di Fara San Martino hanno provveduto all'evacuazione di 12 abitazioni per il potenziale pericolo di valanghe slavine. Le 35 persone evacuate sono attualmente ospiti di familiari e alberghe. Poi ancora i carabinieri del Comando Provinciale di Chieti con la collaborazione dei carabinieri forestali del gruppo di Chieti hanno raggiunto le località di Passo Lanciano e Mamma Rosa dove in alcuni alberghi sono bloccati senza particolari problemi numerosi utenti tra cui alcuni gruppi di studenti. Gli uomini dell'arma coordinati dalla prefettura di Chieti hanno raggiunto entrambe le località ed hanno avviato le operazioni di rientro delle persone che in questi giorni sono rimaste bloccate dalla neve. Non ci sono emergenze sanitarie e nella struttura funzionano regolarmente i servizi. Continua l'emergenza elettrica nella nostra regione. Sono 33 mila le persone che non hanno energia in casa oppure nella loro azienda. Il ritorno alla normalità procede molto, forse troppo lentamente. Alfredo Primante. Passata quasi una settimana dalla bufera siberiana che ha messo in ginocchio l'Abruzzo sono ancora 33 mila gli abruzzesi le cui utenze, usando il gergo tecnico dell'Enel, sono disalimentate, vale a dire senza energia elettrica e quindi fondamentalmente senza la possibilità di far funzionare gli impianti di riscaldamento domestico e non solo, per le persone malate e gravemente disabili, significa nessuna possibilità di alimentare eventuali macchinari sanitari se non collegandoli ai generatori. Il dato è stato diffuso dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e fa riferimento all'ultimo bollettino emesso da e-distribuzione, la società di Enel che gestisce la rete elettrica nazionale. Un'emergenza nell'emergenza, quella dell'elettricità, che passata la fase dei soccorsi dovrà essere oggetto di profonda riflessione e soprattutto di chiarimenti. Da nord al sud in regione, interi paesi sono finiti al buio e al gelo, ripiombati improvvisamente in un inverno medievale. Qualche giorno fa, Enel, in una conferenza stampa a Pescara, aveva detto di aver fatto tutto il possibile e di aver investito oltre 200 milioni di euro nell'ammodernamento della rete elettrica, soldi che evidentemente, visti i risultati, o non sono stati sufficienti, oppure non sono stati spesi bene. Vero è che la portata dell'ondata di maltempo è stata eccezionale, ma è anche vero che era stata ampiamente prevista. Molti sindaci hanno denunciato poi la carenza di informazioni e la difficoltà di comunicazione con Enel, che dal canto suo ha detto di aver messo in campo tutte le procedure previste per il caso. Le scuse agli abruzzesi comunque sono arrivate, ma certamente non saranno sufficienti a placare la rabbia di chi con anziani e bambini in casa è rimasto in blackout elettrico per giorni e di tutti quelli per i quali il blackout continua. Non basteranno neppure i 300 euro di tetto massimo dei rimborsi previsti dalla legge per ciascun utente privato nella cifra più cospicua che spetterà alle aziende che in questa settimana non hanno avuto la possibilità di lavorare anche in zone risparmiate dalla furia degli elementi. Ad ogni modo, Feder Consumatori Abruzzo ha fatto sapere di essere a disposizione per illustrare i criteri di rimborso ai cittadini abruzzesi, rimborsi che sono automatici e conseguenti all'accertamento delle ore di disservizio. Mentre per gli sbalzi di corrente che abbiano causato danni ad elettrodomestici ed utilizzatori di corrente, gli stessi devono essere documentati e corredati da opportuna istanza. Analogo discorso vale, scrive sempre Feder Consumatori, per coloro che hanno subito danni dalla mancata erogazione di energia elettrica. Stiamo andando nelle zone di Collezone, Sparazzano, Villaromita, con i mezzi a fare il massimo sforzo. L'emergenza più grave è quella elettrica, la gente è esasperata. Ci sono zone ormai da sei giorni senza luce. Lo riferisce il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, confermando che il ritorno alla normalità nel comune è ancora lontano. E a proposito, vediamo quanto accaduto nel pomeriggio a Ioannella, nel comune di Torricella Sicura, nel tentativo di raggiungere Poggio Valle di Teramo per portare combustibile per il gruppo elettrogeno e generi essenziali ad una famiglia con un invalido. La troupe non è riuscita ad arrivare perché la strada non è stata ancora liberata dalla neve. Il rappresentante di Unmil di Teramo, Vincenzo Tassoni, muove una protesta contro la mancanza da giorni dell'elettricità e la mancata pulizia delle strade di collegamento per le frazioni. In questo momento ci troviamo a Ioannella, poco dopo. Ioannella stavamo tentando di raggiungere la frazione di Poggio Valle dopo aver attraversato quella di Scorsoni e quella di Pastignano. Dovevamo arrivare a Poggio Valle perché abbiamo in macchina il carburante che serve per far funzionare il gruppo elettrogeno per una famiglia di anziani e una famiglia che aveva al suo interno un grande invalido del lavoro, che è stato liberato due giorni fa da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Oggi volevamo portare sostegno alla famiglia dove c'è anche una bambina di due anni, ma non ci siamo riusciti. Un tentativo non riuscito proprio perché c'è tanta neve, c'è troppa neve. Io come Unione Nazionale Mutilata ed Invalidi del Lavoro, come rappresentante dell'Unione per la Difesa dei Consumatori, più di questo francamente non riesco a comunicare all'esterno. Certo è che dentro di me c'è tanta rabbia, ma tanta rabbia perché nei miei lunghi anni io una situazione di questo genere non l'ho mai vista. È vero, si tratta di una eccezionale nevicata, ma si tratta anche che siamo ormai alla fine del sesto giorno e fra un po' inizia il settimo giorno. Alle mie spalle c'è una montagna che dovremmo scalare con la macchina perché sotto ci sono due metri di neve, non si capisce francamente con quale mezzo si possa salire lì se non con un trattore cingolato. Noi abbiamo un fuoristrada attrezzato e non è stato sufficiente per superare gli ostacoli che abbiamo. Ribadisco ancora e ricordo, ci sono ancora in giro, in queste zone, nei lati, l'uno ce l'abbiamo qui a destra, un imprenditore agricolo che ha del bestiame, lì siamo riusciti ad arrivarci, ma oltre questo e per tutte le altre zone, alcune delle stalle crollate dal peso della neve e dal terremoto, non sappiamo cosa è rimasto sotto perché ancora non siamo nelle condizioni di poterci arrivare. Il sindaco di Teramo, Maurizio Bruc, è emanato un'ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne per le giornate di lunedì 23 e martedì 24 gennaio. Da lunedì 23 gennaio invece riapriranno tutti gli uffici pubblici del territorio comunale. Continuano ad arrivare senza sosta le richieste di soccorso in provincia di Teramo. Ascoltiamo la testimonianza di un volontario del soccorso alpino nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Lei sta effettuando dei soccorsi, ma ha anche suo figlio bloccato a San Pietro, vicino Isola del Gran Sasso? Sì, esattamente. Si trova a San Pietro di Isola, da domenica ci sono 20 o 30 persone che non ho più carburante, non ando a vivere e sono su e la turbina dopo quasi 4-5 giorni ancora non riesce a raggiungere questo posto che sta a 8 km da Isola. E cosa si pensa di fare adesso? Non lo so, perché sto chiamando, nonostante stai facendo i soccorsi nessuno mi sa dire a che punto sta la turbina, c'è una situazione un po' di sco... cioè siamo scordinati, quindi a questo punto nessuno sa cosa farà l'altro, credo. Lei stamattina che cosa farà? Io adesso vado a San Giorgio a recuperare 6 persone che sono bloccate. Arriverà lì con gli sci? Penso con l'elicottero e poi con le ciaspre, l'ultimo pezzo, ma penso che riusciamo ad arrivare molto vicini, quindi non sarà problematica. Piani per l'ipotetica evacuazione di ospedali, gestione di eventuali massicci, afflussi di feriti, corsi di formazione ad hoc per il personale, attivazione di procedure speciali per trattare casi di ipotermia da valanghe ed entro l'estate bando per l'appalto della centrale regionale di Elisocorso del 118 all'Aquila la cui progettazione sarà avviata entro febbraio. Questi in sintesi i punti principali dell'unità di crisi della ASL 1 approntata in questi giorni dalla direzione ASL per l'emergenza neve e sisma su tutto il territorio provinciale. Abbiamo pianificato le azioni da mettere eventualmente in atto, dichiara il manager della ASL Rinaldo Tordera in caso di necessitaccio al fine di fronteggiare al meglio e nel dettaglio senza lasciare nulla al caso alle situazioni critiche che dovessero presentarsi un assetto organizzativo di uomini e mezzi che sarà ulteriormente perfezionato nelle prossime settimane e che riguarderà tutti gli ospedali della provincia. Una procedura per trattare in modo rapido e incisivo casi di ipotermia legati al rischio valanghe. Conclusa l'emergenza per il comune dell'Aquila che lunedì riaprirà le scuole non si fermano invece i soccorsi e l'assistenza alla popolazione nei paesi della provincia colpiti da sisma e maltempo. Continuano le attività della sala operativa della prefettura dell'Aquila. Il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi accompagnato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Egno Aquilino ha incontrato sui luoghi maggiormente colpiti dagli eventi sismici e dalle precipitazioni nevose i sindaci di alcuni dei comuni più interessati Capitignano, Montereale e Campotosto. Sono state raccolte tutte le indicazioni e le richieste sottoposte al vaglio del centro di coordinamento soccorsi istituito appunto presso la sala operativa della prefettura dell'Aquila. Intanto per il comune dell'Aquila sia oggi conclusa l'emergenza e le scuole sono in via di sanificazione per la riapertura di lunedì mattina per il ripristino delle elezioni. Rimane comunque aperta al pubblico la struttura di Murata Gigotti gestita dalla protezione civile della Proloco di Coppito che dispone di un tendone munito di brandine che sarà aperto tutta la notte. Inoltre sarà aperta anche la casa del Trentino sempre a Coppito a disposizione dei più bisognosi anziani, bambini e portatori di handicap. Per i cittadini più svantaggiati è a disposizione anche la struttura ex Caritas tra Pagliare e Sassa. Entrambe le strutture sono riscaldate e dotate di brandine e bagni. Sono necessari almeno 10 milioni di euro per affrontare a Chieti nell'immediato i lavori di straordinaria manutenzione e ripristino dei danni procurati dalle nevicate di questi giorni alle scuole agli immobili comunali al cimitero al patrimonio arboreo e in particolare a quello della villa comunale anch'essa parzialmente chiusa al transito pedonale da ieri per il pericolo della caduta alberi alla viabilità e per porre in essere azioni di messa in sicurezza e ripristino delle emergenze nascenti dal dissesto idrogeologico lo ha reso noto il sindaco di Chieti Umberto Di Primio che questa mattina ha presieduto una giunta straordinaria per fare il punto sulla situazione dei danni reiterando alla presidenza del Consiglio dei Ministri alla presidenza della Regione Abruzzo alla prefettura di Chieti al Dipartimento di Protezione Civile regionale e alla provincia di Chieti la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il comune di Chieti proseguiamo con il nostro notiziario il dottor Paolo Dallavilla dell'istituto zooprofilattico d'Abruzzo e Molise di Teramo parla dell'emergenza animali che in Abruzzo si somma a quella che riguarda le persone l'IZS ha lanciato un helpdesk al numero 8000 82280 oppure 0861332500 oppure via posta elettronica all'indirizzo juvene chiocciola izs.it il servizio di fatto si è rivelata la sovrapposizione di tre emergenze estremamente critiche c'è una caduta eccezionale di neve protratta nel tempo che si è stratificata si è ammassata un evento sismico non registrato sicuramente da molti 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 anni e il blackout tecnologico ed energetico per gli animali si sta rivelando una criticità estrema tenuto conto che tuttora è difficile raggiungere persone che hanno bisogno di assistenza e che non sono in grado talvolta nemmeno di raggiungere a pochi metri l'alimentazione che potrebbero somministare gli animali i dati sono solo relativi evidenze che abbiamo agli allevatori che hanno potuto come perché collegati segnalare determinate necessità voi avete un numero d'emergenza si è stato istituito un help desk che è attivo dalle 8 di mattina alle 20 tutti i giorni se c'è la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica si può scrivere a iuvene iuvene chiocciola izs.it ed ora delle immagini che in qualche modo ci introducono alla pagina sportiva i pescara rangers come avevano già comunicato ieri pomeriggio stamattina si sono recati ad atri e a manopello ecco alcune foto per dare una mano ai cittadini dei due centri fortemente colpiti dal maltempo e dalle forti nevicate dei giorni scorsi armati di pale guanti e scarponi già dalle prime ore hanno aiutato i mezzi e gli operai a liberare dalla neve le zone più disagiate delle cittadine queste appunto le foto scattate proprio questa mattina nel centro storico di atri neve esondazione terremoto e valanghe ci possono far cadere ma nessuno può impedirci di rialzare di ricominciare con più forza e voglia di prima avevano scritto sul comunicato i componenti della tifoseria organizzata bianca azzurra non è un appello ma un invito ad unirvi a noi per i nostri fratelli per la nostra terra orgogliosi più che mai delle nostre origini di essere pescaresi e abruzzesi rialzati Abruzzo rialziamoci insieme questo è il contenuto appunto del comunicato dell'appello della tifoseria organizzata pescarese e appunto parliamo ora di sport di Serie A e di Pescara è un sabato di vigilia per la partita di domani ore 15 allo stadio di Etico Cornacchia di Pescara tra Pescara e Sassuolo e non ce l'ha fatta Alberto Girardino a recuperare dai problemi al ginocchio così l'attaccante salterà il match di domani convocati Cerri Memushai Fornasier che hanno in qualche modo smaltito l'influenza torna Baebec prima convocazione per l'argentino Cubas assente Montari il cui contratto firmato oggi sarà depositato lunedì il tecnico Oddo rivolge anche un pensiero ai fatti di Rigopiano ascoltiamolo Due mesi fa siamo stati ospiti di Roberto il proprietario di questa struttura meravigliosa che purtroppo è stata colpita e quindi siamo particolarmente vicini a lui e a tutti quelli che sono stati coinvolti in questo evento che è successo ovviamente molto molto spiacevoli contentissimi per tutti quelli che sono stati salvati in particolar modo per questi bambini e ovviamente molto amareggiati per le notizie negative che ovviamente arrivano Ha senso giocare secondo te? Ma ha senso giocare purtroppo di eventi negativi al mondo ce ne sono veramente tanti e tutti i giorni se se per ogni evento negativo si deve fermare il mondo non avrebbe nulla più senso perché sarebbe sempre fermo quindi siamo consapevoli che l'area che si respira in questo momento soprattutto nel nostro Abruzzo è un'area negativa però la vita deve andare avanti sempre tenendo ben presente quello che succede e tenendo presente che il nostro è un gioco e invece quello che succede non è un gioco anzi è qualcosa di veramente spiacevole No, mi aspetto un Sassolo equilibrato perché è una squadra equilibrata una squadra che gioca bene al calcio che ha un'idea di gioco una propria identità e prova a fare la partita quando c'è la possibilità e al contempo è una squadra che sa anche difendersi molto bene quindi credo che sarà un Sassolo equilibrato Marcello è prontissimo il mister Donatelli è la mia spalla il mio braccio la mia mente tutto perché è un ragazzo veramente in gamba l'altra volta era tutto preoccupato come si fa adesso io ho detto ma tu stai sereno tanto quando si ha un secondo è perché si ha fiducia in lui e io ho la massima fiducia in lui quindi lui andrà in panchina e prenderà le sue decisioni la classe arbitrale è quella che decide quindi va bene probabilmente avremmo sbagliato anche noi sicuramente ho sbagliato anch'io però in quei momenti va anche capito un attimino mi è sembrato un po' troppo un po' tutto esagerato no no ma quando capita che l'onatore offende un arbitro un guardialine un quarto uomo è giusto che venga cacciato ma in quel caso io non ho offeso nessuno quindi non vedo perché mi sembra un po' troppo eccessivo e in effetti è espulso a Napoli Massimo Oddo ha collezionato una giornata di squalifica quindi domani non sarà in panchina a guidare il Pescara lo farà il suo vice Marcello Donatelli la gara sarà diretta da Paolo Valeri di Roma 2 gli assistenti saranno Cariolato di Legnago e del giovane di Albano Laziale parliamo ora del Sassuolo Sassuolo dei tanti ex ovviamente il tecnico Eusebio di Francesco ma anche Politano Ragusa e Aquilani che è l'ex più fresco andato via un mese fa da Pescara peraltro anche con alcuni strali in particolare in particolare lanciati dalla compagna Aquilani domani sarà quasi certamente in campo dal primo minuto come dal primo minuto quasi certamente saranno Politano Matri e Berardi da poco rientrato dopo il lungo infortunio che si procurò proprio nella gara d'andata ascoltiamo le parole proprio di Eusebio Di Francesco anche lui rivolge un pensiero a quanto sta accadendo nella sua regione di appartenenza Dico solo che personalmente vivo il momento particolare dei miei conterranei abruzzesi con regionali sapendo che ci sono delle criticità veramente importanti conoscevo bene anche l'albergo dove dirigo piano tante situazioni che mi dispiacciono è ovvio che sono vicino vicinissimo a loro il fatto che si debba giocare o meno dipende tantissimo dalle forze dell'ordine da quello che le persone sono apposta lì per poter determinare certe scelte io devo farne altre quello che dico che a volte sicuramente maggiore sensibilità per questi eventi ci vorrebbero magari non giocarla potrebbe essere positivo o negativo o magari riavviciniamo un pochino tutti a delle situazioni un pochino più di serenità che è quello che mi auguro che torni presto nella mia regione queste partite sono veramente insidiose perché sono un po' quei crocevia in cui l'orgoglio la determinazione la voglia di far bene da parte loro può fare la differenza ma io voglio altrettanto della mia squadra voglio grande determinazione dicono di essere quasi all'ultima spiaggia è ovvio che vengono esasperate determinate situazioni perché mancano 18 partite ma loro hanno bisogno di vincere come noi vogliamo portare a casa un risultato positivo cercando sempre di ottenere il meglio cioè tre punti veniamo da un periodo in cui le trasferte non sono state positive perché quest'annata abbiamo fatto sette sconfitte due pareggi e una sola vittoria nella prima giornata di andata per quello vogliamo ritornare al successo vogliamo ritornare a festeggiare anche fuori casa al di là dove andiamo a giocare che per me sì che ho il cuore bianco-azzurro nel senso che ho sempre tifato per quella squadra però sono un professionista e cercheremo di andare a pescare per portare a casa i tre punti io ho un ottimo rapporto sia con la dirigenza che con tanti con Massimo con Oddo e con tutto il resto ma anche l'ambiente ho vinto un campionato ho un bellissimo ricordo delle due stagioni con le note in Pescara però adesso io sono legato a una società a cui sono veramente legato lo ribadisco per l'ennesima volta come Sassuolo e voglio il bene del Sassuolo in questo momento io devo dire che la sconfitta l'ha avuta più la società che la squadra io mi posso prendere le responsabilità della squadra e questa è una responsabilità invece legata al fatto di qualche errore nostro e non ce la possiamo prendere più di tanto con quelli del Pescara e ora scendiamo in serie D parliamo di quella che doveva essere la giornata ricca di impegni per le abruzzesi del Giron F e del Giron EG ma ovviamente causa maltempo causa anche il dramma che si sta consumando in Abruzzo molte di queste partite sono state rinviate in campo ci sarà soltanto la vastese contro il Monticelli un nuovo weekend fortemente condizionato dal maltempo e dalle problematiche del terremoto riduce ad una sola partita il quadro abruzzese della serie D l'Aquila Riete ad esempio il big match del Giron EG non si giocherà anche perché i locali dello stadio Gran Sasso d'Italia Idola Concia del capoluogo abruzzese sono stati messi a disposizione dal comune per quei cittadini che avessero voluto trascorrere le notti fuori da casa per paura delle scosse si giocherà il primo febbraio l'8 febbraio invece saranno recuperate Agnonese, Pineto e Matelica San Nicolò in questi casi le abbondanti nevicate hanno spinto le società ad accordarsi in anticipo per il rinvio delle gare in particolare per il San Nicolò si allunga il riposo forzato dopo il rinvio della gara di fermo e il riposo dovuto alla partita Al resto poi hanno pensato i problemi economici del Foligno che dopo gli 11 gol subiti all'Aquila con una formazione imbottita di ragazzi sembrava stesse operando per accaparrarsi dei rinforzi e invece ha alzato bandiera bianca con una nota l'Avezzano Calcio ha fatto sapere di aver ricevuto comunicazione dalla LND dell'annullamento della partita per ordine della pubblica autorità al cospetto del Foligno Calcio in settimana il giudice sportivo assegnarà lo 0-3 a tavolino ai Marsicani così l'unica abruzzese in campo sarà Lavastese giocherà contro il Monticelli sul campo neutro di Monte San Giusto il pari col San Marino ha lasciato la mano in bocca e qualche mugugno nella tifoseria aragonese il tecnico Colavitto medita riscatto e potrà contare sul bomber Prisco che ha scontato la sua lunga squalifica ed è pronto a riprendere la sua personale marcia a suon di gol è tutto per questa edizione del TG6 io vi ricordo gli appuntamenti di domani con lo sport su TV6 intorno alle 14.25 diretta stadio per seguire in particolare la gara tra Pescara e Sassuolo poi alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con la conduzione di Jacopo Forcella per i commenti post-gara chiaramente anche riflessi filmati della gara di Serie D tra Monticelli e Vastese ma essendo in diretta non mancheranno tanti aggiornamenti anche su quanto sta accadendo a Rigopiano sulle operazioni di ricerca di ulteriori superstiti ma anche per tenervi aggiornati un po' su tutto il fronte del maltempo e tutte le conseguenze del maltempo è tutto grazie per l'attenzione buona serata e buona domenica grazie a tutti